Nel pomeriggio di venerdì un poliziotto della questura libero dal servizio è arrestato un cittadino serbo, BV, quest'essuniziale di 73 anni, per furto aggravato e resistenza pubblico ufficiale. Lo straniero aveva da poco commesso un furto in un'abitazione di via Galilei e nell'antio dello stabile ha incontrato una donna che ha notato che questi aveva con sé un borsone di sua proprietà. Chiesto conto di ciò, l'uomo unitamente ad altre due persone che hanno preso altre direzioni scappava e veniva in seguito dalla donna che si era messa a gridare. Durante la fuga il serbo ha lasciato il borsone in via Ricci mentre le urla di soccorso sono state sentite da un poliziotto della questura libero dal servizio che si è messo all'inseguimento del lato. Una volta raggiunto in via Fabio Severo, dopo una collotazione, l'uomo è stato bloccato e si è sentito male. Il poliziotto quindi ha chiamato i sanitari del 118 mentre sul posto è arrivato un equipaggio della volante allertata del 113 al quale erano pervenute le telefonate, della derubata e di altri cittadini che avevano assistito alle varie fasi dell'episodio. Prima di venire accompagnato presso il pronto soccorso di Cattinara, gli operatori hanno perquisito l'uomo e gli hanno trovato addosso una chiave inglese, un cacciavite, la chiave di un'autovettura e numerosi monili d'oro, alcuni in oro, successivamente riconosciuti come di sua proprietà della derubata. Nel corso dei successivi accertamenti, gli operatori hanno individuato in via Giulia un'autovettura Peugeot con tarpa serba che si apriva con la chiave trovata addosso all'uomo. Non essendo a lui intestato, il veicolo è stato sequestrato e affidato a una ditta specializzata in attesa di definire se si tratta di compendi o di furto o di una votovettura nella sua disponibilità. Inoltre gli agenti si sono recati nell'appartamento della derubata trovandovi la porta d'ingresso danneggiata e con tanti segni di infrazione sul posto, anche personale, della polizia scientifica. Una volta ristabilitosi, il serbo ha lasciato Cattinara e in questura è stato arrestato e portato in via Coloneo.